8 anni fa 350 chitarristi, 250 cantanti, 250 batteristi e 150 bassisti suonavano Learn to Fly dei Foo Fighters al parco urbano dell'ippodromo di Cesena per convincere la band di Dave Grohl a esibirsi nella città, cosa poi è avvenuta a novembre. Nel frattempo il progetto Rockin' 1000 ha fatto concerti di fronte a pubblici diversi in Italia, a partire da uno show allo stadio di Cesena nel 2016, Francia, Germania, Spagna, Brasile. I 1000 musicisti quest'estate si sono dati appuntamento per fine luglio allo stadio Manuzzi di Cesena per accogliere fondi per le popolazioni colpite dall'alluvione di maggio. L'utile del concerto, infatti al netto dei costi di produzione, è destinato alle province di Forlì, Cesena e di Ravenna. Sono passati sette anni dal nostro debutto allo stadio di Cesena, abbiamo deciso che questa fosse l'occasione migliore per tornare a casa dopo aver fatto il giro del mondo, suonando davanti a decine di migliaia di persone, ha spiegato Fabio Zaffagnini, fondatore proprio di Rockin' 1000. L'alluvione ci ha colpiti profondamente, la nostra sede è finita sott'acqua e il legame con il territorio è sempre molto forte e vivo. Dopo aver coadiuvato il coordinamento dei volontari attraverso la creazione del servizio VolontariSOS.it che ha permesso la gestione di oltre 50.000 persone, abbiamo voluto lanciare questo evento di raccolta fondi. Certo si tratta di un evento particolare con musicisti particolari, un pubblico particolare, speciale che si fa ammaliare da tanti artisti sconosciuti insieme, sempre per buone cause. Abbiamo detto che la scorsa volta Cesena era stato per cantare, tra le altre Learn to Fly, dei Foo Fighters, un brano che risale al 1999 al quale diamo spazio adesso. Il gruppo musicale statunitense lo scelse come primo estratto dal terzo album in studio, There is nothing left to lose. Terza traccia del disco, la canzone con il passare del tempo è diventata una delle più note nella carriera del gruppo. Il testo scritto dal frontman Dave Grohl appunto durante la sua permanenza in Virginia negli Stati Uniti risulta di carattere autobiografico e parla del fatto di cercare di ambientarsi nella fase successiva della tua vita quel posto dove puoi sederti e rilassarti perché c'erano state così tante stupidaggini negli ultimi tre anni. Ovviamente il linguaggio poi del frontman nel momento della dichiarazione era stato molto più colorito. e aveva così fatto riferimento alle vicissitudini legate ai vari cambi di formazione dei Foo Fighters avvenute in quel periodo. Una volta uscito comunque raggiunse la Top 20 della Billboard Hot 100 statunitense, mentre due anni più tardi, all'indomani degli attentati dell'11 settembre del 2001, fu bandito da alcune stazioni radiofoniche statunitensi insieme a molti altri brani. Anche perché, come qualcuno ricorderà, il video mostra l'interno di un volo aereo ed è la parodia del film L'Aereo più pazzo del mondo. Due meccanici di una compagnia aerea infatti nel filmato, nel videoclip, nascondono nella macchina del caffè una bustina con scritto World Domination Erotic Sleeping Powder che causa delle allucinazioni e anche dei comportamenti alquanto bizzarri in chiunque beva il caffè. I componenti della band invece sono gli unici a bordo a non averlo bevuto e così sono costretti a far atterrare l'aereo al posto dei piloti, impossibilitati appunto a farlo. Nel video ogni componente del gruppo interpreta sia se stesso che altri ruoli. E allora siamo giunti alla fine di questa puntata, ci lasciamo solo per il momento proprio in compagnia delle note della canzone dei Foo Fighters. Grazie a tutti.